ben ritrovati a tutti alle super offerte settimanali della grosso vacanza questa volta vi volevo presentare il beni marmileo 261 il veicolo compatto lungo solo 6 metri e 99 che può ospitare quattro persone in viaggio e quattro persone a dormire l'ideale per le vostre vacanze sia estive che invernali grazie alla grandissima coimbentazione il design degli interni abbina il legno chiaro con lo scuro creando un ambiente moderno elegante e luminoso la zona giorno è formata da sedili girevoli una di netadelle ed il tavolo con la chiusura libro che favorisce l'ampiezza dello spazio sopra di essa è situato il letto basculante singolo a movimentazione elettrica di facile accesso la cucina è formata da un piano cottura a tre fuochi lavello separato e un frigo trivalente automatico da 140 litri il bagno garantisce privacy e comfort ed è formato dal vc dal lavabo e dal box doccia separato nella parte posteriore infine troviamo due comodi letti gemelli che poggiano su un garage di dimensioni generosi dove è possibile ospitare la propria bici o la propria moto il veicolo che avete appena visionato viene di listino 78.930 euro ma per questa settimana potrà essere vostro a 75 mila euro comprensivo della messa su strada dei remis in cabina della retrocamera del pannello solare della coinventazione invernale del gradino e del serbatoio io e tutto lo staff della grosso vacanze vi aspettiamo